E' stato ancora riscontrando problemi riguardo all'easy anti cheat su fortnite ed eccolo qua ho addirittura preso l'easy anti cheat e l'ho inviato direttamente sul desktop in questo caso possiamo fare tantissimi procedimenti per risolvere questo problema quindi in questo caso andiamo un attimo su epic games vai nella libreria vai direttamente su fortnite tre puntini e vai su gestisci una volta fatto entra così nella cartella di fortnite quindi installazione ed ecco la cartella vai in fortnite game binaries 1.64 ed ecco l'easy anti cheat se non hai questa cartella vuol dire che qualcosa ha eliminato la cartella in fortnite può essere che l'antivirus il tuo antivirus windows defender ha cancellato così la cartella puoi semplicemente andare direttamente nelle eccezioni quindi gestisci impostazioni esclusioni aggiungi rimuovi esclusioni in questo caso aggiungi un'esclusione cartella e inserisci così la cartella di fortnite metto quella qua e inserisci così la cartella di fortnite così facendo l'antivirus non romperà più le scatole alla cartella di fortnite e basta se no come ho detto fai la verifica al gioco tre puntini gestisci e fai la verifica e ripristinerà così la cartella di fortnite una volta fatto entriamo così nella cartella come puoi vedere ho creato così un altro collegamento uguale a questo dell'easy anti cheat eo setup quindi fai tasto destro sopra mostra altre opzioni e fai crea collegamento una volta fatto ora su questo easy anti cheat eo setup.exe devi rimuovere così il crea collegamento quindi devi rinominare così il file togli così il collegamento e vicino a exe metti install spazio prod trattino fn e fai invio clicchi sopra e installerà automaticamente l'easy anti cheat se non dovesse funzionare devi per forza rimuovere questa cartella e fare una verifica quindi cancelliamo così l'easy anti cheat e fai la verifica al gioco una volta fatto andiamo un attimo su servizi quindi una volta che ha finito così la verifica scendi fino a giù fino a trovare così l'easy anti cheat di epic online service da non confondere con l'easy anti cheat in generale sul tuo computer quindi clicca su l'easy anti cheat ed eccolo qua ora lo stato del servizio è in esecuzione metto automatico grazie grazie ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti posso dare in descrizione di un lasciato così il link che ti porterà sulla pagina Epic Games Support. Scendi fino a giù fino a trovare così. Andiamo su Battle Royale quindi di Fortnite. Scendi fino a giù fino a trovare. Contattaci. Accendi così con il tuo account Epic e puoi mandare al supporto di Epic Games degli screenshot del tuo Easy Antichit che non si avvia. Quindi loro ti risponderanno entro qualche ora o un giorno. Il gioco è andato perfettamente. Un altro metodo che ti posso consigliare è andare un attimo su. Esegui. Percento. Updata. Percento. Quindi vai a scrivere percento. Updata. Percento. Percento per fare percento. Fai shift più 5. Fai ok. Updata. Local. Scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Fortnite. Fortnite Game. Elimina così la cartella di Fortnite Game. Elimina così la cartella di Epic Games Launcher. Una volta eliminata la cartella di Epic Games devi fare il login sul tuo account Epic Games. Poi fai la verifica al gioco e prova ad aprire Fortnite. Per altri problemi ancora ci sono altre guide al riguardo su Easy Anti-Cheat. Problemi su Fortnite. Tutta una playlist in alto a destra nelle schede. Commenta sotto il video. Iscriviti. Lascia like. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.